Il 4 ottobre la città di Agropoli festeggia San Francesco d'Assisi presso la chiesa a lui dedicata. San Francesco è un santo importante per Agropoli, per la lunga tradizione che ci riporta ad una sua presenza, una lunga tradizione che era testimoniata dal convento, uno dei primi conventi fondati qui in Campania e di cui ora rimane, anche se del tutto costruita ex novo, la chiesa a lui dedicata. San Francesco è importante però per il nostro paese, per l'Italia, perché ne è il santo protettore, Papa Pio XII, che lo proclamò insieme a Caterina della Siena, patrono d'Italia, individuò in Francesco d'Assisi tutte quelle peculiarità proprie del popolo italiano che incontrati, secondo l'annunzio del Vangelo, hanno reso fecondo di santità ma anche di genio artistico, letterario, il nostro paese. Agropoli quindi si unisce a quei luoghi in cui Francesco è venerato. È una festa che io ricordo da tanti anni, è una chiesa dove io mi sono sposata ed è sempre un bel ricordo e quindi è bello ogni anno ritornare e fare questa bella processione che c'è, e sembra che ogni anno è sempre più persone, più conosciuta e sono molto contenta anche perché negli ultimi tempi sono più vicina, mi sento più vicina e a volte ho fatto anche la portatrice. Ho anche una sorella con questo nome e quindi io ci tengo tantissimo, veramente tanto. Grazie. Grazie.